fare una domanda da un po' di tempo, poi dopo subito la parola è per deboli la rievocazione dei miti greci appare come un'araba fenice che rinasce dalle sue ceneri dopo un ciclo di vita più o meno lungo ora io vorrei sapere da lei quali sono i risvolti sociali e culturali che questa rievocazione potrebbe avere all'alba del terzo millennio tenendo conto anche dei grandi problemi che affliggono tutta l'umanità ma guardi queste storie non hanno mai finito di procedere se lei guarda la storia europea di questi ultimi 500 anni dalla Firenze del 400 fino a oggi è una continua succedersi di onde in cui queste figure riappaiono in una forma o nell'altra appaiono a volte in forma clandestina perché ovviamente è una conoscenza osteggiata e condannata ma per esempio attraverso la pittura non dovendo usare la parola molto spesso hanno vissuto ancora meglio che nella parola grazie a tutti grazie a tutti